La prima competenza necessaria è quella didattica e pedagogica, cioè dietro ci deve essere un pensiero pedagogico, che è fondamentale, altrimenti posso avere le macchine più belle e performanti del mondo, ma fanno la fine di quelle limme di cui parlava prima Daniele. Quindi sicuramente è un'idea didattica di quello che noi vogliamo realizzare, anche rispetto alle fasce dei bambini che noi abbiamo a scuola, dei ragazzi che noi abbiamo a scuola. Poi è chiaro che servono anche delle competenze, diciamo, amministrative, quindi il dirigente di SGA, ma anche delle competenze, diciamo così, di organizzazione degli spazi e delle competenze digitali, magari specifiche, legate eventualmente agli strumenti o agli ambienti che andiamo in qualche modo a trasformare anche in ottica digitale. Però anche qui serve un nucleo, quindi il nucleo è quello pedagogico che parta da uno studio di fattibilità, capisca quello che c'è già in termini di risorse umane, umane e strumentali, e da lì si va a crescere. A volte basta anche avere la consulenza di qualcuno, magari molto competente rispetto a un tema, a volte è utile avere quella competenza dentro la progettazione. Però ecco, l'errore di partire prima degli strumenti per poi arrivare alla didattica è già stato fatto. Adesso abbiamo capito come funziona, partiamo dalla didattica e selezioniamo e scegliamo gli strumenti in quell'ottica di cui dicevamo prima, cioè in cui analogico e digitale si devono integrare, per cui tutti questi discorsi che i bambini perdono la manualità, se pensiamo che la perdano, facciamogliela sviluppare, ci sono mille modi, no? E automaticamente usiamo anche il digitale. Ah, non sanno più parlare italiano? Facciamoli parlare. E quindi alla fine spesso leggiamo queste cose, ah, i nostri studenti non sanno più l'italiano, se a noi gli insegnanti chi glielo deve insegnare. Facciamolo imparare, abbiamo un bel po' di ore, dai, cerchiamo di fare in modo che portano il più possibile dei frutti. Quindi mi viene da dire che mentre prima il team, da un punto di vista burocratico, era composto da tre persone, più un animatore digitale, adesso Scuola 4.0 è molto più elastica e flessibile. Io potrei anche pensare a un coinvolgimento a fasi, cioè una fase in cui anche il collegio docenti possa essere coinvolto, una fase anche di mappatura di quello che già c'è, eccetera, eccetera. E una fase invece più decisionale in cui però magari poche persone in qualche modo elaborano e decidono un progetto. Quindi lo vedrai più a step anche all'interno delle scuole. E anche la voce degli studenti è importante, quindi ricordiamocelo, indipendentemente dall'età, qui però trovate anche il Senato, il Mattarella, che è una delle cose più belle che abbiamo mai visto andare in giro per le scuole, quindi sono partite avvantaggiate. Grazie, grazie mille. Aggiungerei lo strumento della call, anche il sasso nello stagno, no? Cioè fare una call in cui dire, insomma, avete letto il piano, che aula vi piacerebbe avere? Cioè provare anche a intercettare dei sogni, perché uno dei temi difficilissimi, lo sapete tutti voi, anche quelli a casa sicuramente, è che ci sono delle scuole dove ci sono delle pratiche pazzesche nelle aule, ma il preside non lo sa, ma lo staff non lo sa. Ci sono delle scuole dove si fanno delle cose incredibili, ma non solo perché il preside è magari disinteressato, perché poi abbiamo mille rogne, ma magari perché la persona, proprio qualche giorno fa ho chiesto a un insegnante, dice ma perché non fai un momento di formazione? Dici che sai fare sta roba, perché non fai un momento di formazione? No, io dire agli altri come devono lavorare. Ecco, secondo me questa è l'occasione anche per provare ad uscire da queste logiche qui. e non è obbligatorio partecipare, non è obbligatorio assolutamente, però provare anche a gettare il sasso nello stagno e a fare una raccolta di idee, soprattutto sul tema delle differenziazioni dei plessi, insisterei, cioè sulle tradizioni, il mito e il rito di ogni plesso, sulle tradizioni che girano nei plessi, o magari anche dei sogni. Ci sono tanti insegnanti che girano le fiere, che vanno in giro, vanno nei convegni degli editori, didacta, eccetera, o magari capitano ad inchiostri da lui, no? E vedono una roba e dicono capperi, mi piacerebbe averlo nella mia aula. Secondo me può essere anche il luogo, naturalmente con l'avvertenza, non è che possiamo comprare 8 mila oggetti, i soldi sono quelli, però noi come scuola abbiamo un po' l'abitudine di fare io quello che chiamo il collettivo, cioè che dobbiamo riunirci in così tanti, parlare, vabbè, questo è bello, si può fare, eccetera, però anche dare del tempo per maturare, per pensare, uno che vuole leggersi il documento, e poi dire, mi piacerebbe portare nella mia classe questo strumento, potrebbe essere un'idea anche per gli altri, quindi io le chiamo call, banalmente, sono sostanzialmente delle mail sul sito, dei messaggi sul sito, dove dico, portate dentro qualcosa. Ti dico, aggiungo anch'io due parole su questo, chiedere anche ai bambini, comunque, cioè trovare il nucleo dentro la scuola, quando c'è anche bisogno di un consulente esterno, eventualmente, credo che sia fondamentale, anche perché, nell'esperienza che ho avuto io personalmente, voi me lo potrete confermare, quando si progettano e si comprano, si acquistano banalmente degli strumenti, per esempio, adesso molti di voi, penso abbiano immaginato dei progetti per l'esterno, gli orti, i didattici, eccetera, c'è un tema che molte volte viene omesso, che è quello della manutenzione, e allora, per prendersi cura di tutti questi strumenti, chiamiamoli così, è necessario, ho visto anche personalmente, che è più facile prendersene cura, se si è partecipato al processo di progettazione, cioè, se io ti faccio arrivare una cosa lì, e te la impongo io, è un discorso, se invece l'hai scelta, l'abbiamo scelta insieme, con questa call, con tanti strumenti di facilitazione, è più facile immaginare una gestione più equilibrata, anche delle risorse, perché la cosa più brutta, è proprio quella di vedere, le stampanti 3D, chiuse negli armadietti, che le abbiamo comprate, ma non sappiamo come usarlo, e non abbiamo neanche voglia, forse, delle volte di farlo. Può anche essere utile, recuperare un po' i vari ponne, che si sono fatti su questi temi, le attività anche extracurricolari, che avete fatto, cioè perché da lì potrebbero anche innestarsi, percorsi curricolari, per esempio, provate proprio a fare una bella fotografia, e da lì, in attesa che arrivino delle indicazioni, puoi ripartire con quella consapevolezza di cui parlavo prima. Sì, voglio dire una cosa, non partiamo da zero, è probabile, molte scuole non abbiamo partecipato, però le allineo a memoria, forse sei più bravo te, gli atelier digitali, gli atelier creativi, le biblioteche innovative, cioè, negli anni, davvero, per chi, i pon, cioè, io faccio l'esempio mio, noi lavoriamo, abbiamo delle carte, in genere i documenti, anche questo è interessante, parlo per la collega, e la modalità, no, la collega, la modalità di costruzione di questi documenti, può essere una modalità innovativa, perché noi siamo abituati, e la scuola scrive i documenti in dieci, non si scrivono i documenti in dieci, abbiamo sta fissa, che dobbiamo fare la commissione, a parte che io sono contrario alle abolite, ma detto questo, detto questo, il documento lo scrive uno, due cristiani, che hanno raccolto le idee, in qualsiasi lavoro normale, si vada nel mondo, anche al ministero, il documento, vengono scritti da uno, due persone, ma due proprio quando, abbiamo un trust di cervelli, insomma, allora, forse può essere anche l'occasione, lo dico a livello di sistema, per modificare, ampia la rete di persone, che possono dire delle cose, strettissima la rete, di quelli che tirano giù il documento, poi oggi, non è che ci dobbiamo riunire duemila volte, ci stanno i documenti condivisi, questa è una mia battaglia, quindi per questo, mi infervoro, è inutile che io vada a fare, una riunione, dove non ho un documento di partenza, in qualsiasi lavoro normale, io vado in riunione, con il documento, che magari l'ho già condiviso prima, quindi uno, se voleva dire la sua, lo scriveva, modificava, aggiungeva, forse può essere anche l'occasione, tra parentesi, tra le righe nel documento, tu che sei più eseggeta di me, secondo me, anche questo tema, del lavorare in maniera diversa, a livello sistemico, ogni tanto compare, quest'idea che si possa lavorare, a livello proprio di scuola, su gruppi, che lavorano in maniera differente, eccetera, eccetera, quindi, io non mi preoccuperei tanto del documento, i PON, noi abbiamo delle cartelle, condivise, dove dentro ci stanno tutti i documenti, di tutti i PON, a cui abbiamo partecipato, e, a seconda dei tempi, razziamo, un pezzo di qua, un pezzo di là, non si vorrebbe dire, però, alla fine, la scuola è quella, la scuola è quella là, se noi a scuola, faccio un esempio banale, abbiamo, vedo i miei insegnanti, che stanno lavorando, sull'Erasmus, se negli anni abbiamo accumulato, una serie di esperienze, di documenti su quello, non è che vado a riscrivere il documento, con la commissione, eccetera, vado a fare un documento condiviso, io credo che, tranne qualche rara esperienza, gran parte delle scuole, abbiano, come dire, un'esperienza, almeno di aver fatto un PON, di aver fatto un atelier creativo, io ero al ministero, quando abbiamo fatto gli atelier creativi, ed erano, parteciparono all'epoca, quasi tutte le scuole, vuol dire che tutti, iscrissero quelle 3.000 battute, di presentazione, quindi, questo del tema del documento, non mi preoccuperebbe, anzi, ripeto, può essere, da un punto di vista, di learning organization, come dicono quelli che studiano, un'occasione, per cambiare proprio la modalità, di lavorare su un documento della scuola, e poi decidere, conoscere per decidere, perché la decisione, la votazione, non la vado a fare in collegio, ma magari prima, abbiamo costruito un documento condiviso, ecco, quindi, il tema del tempo, in questo caso, non mi preoccuperebbe, più di tanto, perché di fatto, il tema è avere l'idea, insomma, questo è. di quattro. Grazie a tutti.